Musica 2-3 anni fa si è pensato di portare queste competenze all'interno dell'ospedale, competenze non solo le macchine ma anche le persone dedicate, comprese gli ingegneri, quindi la filiera di produzione intellettuale poi anche pratica di questi dispositivi per ottenere tutta una serie di vantaggi, di conoscenze ma tra l'altro di abbattere i costi e di aumentare la velocità del processo, tanto da poter come in questo caso arrivare ad eseguirlo in poche ore. In passato questa operazione di modellazione delle placche veniva eseguita direttamente durante l'operazione chirurgica, la possibilità di farle prima dell'intervento consente di ridurre i tempi e comunque di entrare in sala operatoria con tutti i dispositivi utili per l'intervento.